con la Macri adesso andiamo alle parallele ci spostiamo con Matteo Contalbrigo dell'Aeronautica Contalbrigo che è il veterano del campionato con i suoi 32 anni allenato da Diego Lazaric anche se è dell'Aeronautica Militare è comunque in forza alla fortitudo schio dopo l'entrata laterale tutto il lavoro sulla verticale questo è il diamido una rotazione completa su un braccio diretto poi dietro fronte su un ostaggio ripeto una seconda equip lateralmente questa volta con le gambe divaricate poi un'impennata in ascelle slancio appoggio in verticale bellissima linea per Matteo salto indietro e dietro fronte tutto sulla verticale e il doppio carpio di uscita sicuramente una prova molto più convincente alle parallele rispetto al corpo libero quando è uscito anche di pedana per Contalbrigo bella la linea come ha sottolineato Carmelo e se lui deve sfruttare questa capacità che ha di frustare bene negli attrezzi di slancio in particolare poi qui alle parallele c'è una parte di slancio e una parte anche di forza di tenuta ecco intanto Diego Lazaric che tra l'altro è giudice